quando vince un cavallo che tipo di adrenalina è vincere un cavallo quando vince un cavallo che tipo di che cosa fai com'è che com'è che ti inciti ti auto esalti quando c'è un cavallo quando sta tagliando il traguardo e andiamo scappa cassa dovete pagare poveri dovete pagare dovete pagare la la che ne so il si la sai la sisa la mess poi mi devo pagare sì certo però è più bello quando quando uno sta perdendo come l'imprecazione quando perdo classica frase faccio le storie anche su vista ragazzi oggi stirati a casa stirati ma ce n'è uno un signore in particolare che tu nevio lo stirato che è un ex miliardario che si è ballato tutto al gioco mi devo portare qua me lo devi portare qua se è ballato tutto ancora oggi le banche avanzano più di 10 milioni di euro non sto spezzando tutto commentato ma numero no però c'è una cosa che voglio dire mi scusi il suo apparenza se mi permette lei anche il suo cruciale ma non è un modello però io prima io mi sono stirato perché perché magari prima avevo 100 e ne giocavo 150 adesso invece che ho più testa perché sono più grande magari che ne so ho 150 meno gioco e l'altro 50 meno ballo a bere uguale sono sempre a zero che la dice non è male come di essere apparenza che vorrei